Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale. L'Abruzzo da lunedì passa in zona gialla. Il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato davvero pochi minuti fa le ordinanze per il passaggio da lunedì prossimo della nostra regione da zona bianca a zona gialla. Non solo l'Abruzzo, anche Toscana, Emilia Romagna e Val d'Aosta. Con queste quattro regioni classificate gialle per le misure anti-covid diventano in tutto 15. Questo anche per rispondere ai numeri che anche oggi sono molto alti. Dei contagi 1540, i nuovi casi accertati nelle ultime ore in Abruzzo. 1024 identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività è pari al 13,47%. 404 i decessi recenti che fanno salire il bilancio delle vittime a 2.659. In rapido aumento i ricoveri, i nuovi positivi hanno età compresa tra due mesi e 98 anni. 269 pazienti più 21 sono ricoverati in ospedale in area medica, 25 più 1 sono in terapia intensiva, mentre gli altri 38.689 sono in isolamento domiciliare. Vediamo le variazioni provincia per provincia. 269 casi in più rispetto a ieri in provincia dell'Aquila, 416 in più in provincia di Chieti, 479 in più in provincia di Pescara, 251 in più in provincia di Teramo, 26 per persone che provengono fuori regione. Il totale dei casi covid accertati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza a fine febbraio 2020, ad oggi supera quota 130.000 e arriva a 130.440. Di questi casi 23.867, pari quasi al 20%, sono emersi soltanto nell'ultima settimana, in assoluto quella caratterizzata da numeri più alti. Fino al 29 dicembre l'Abruzzo non aveva mai superato i 1.000 nuovi positivi in 24 ore. Da quel giorno in poi, 29 dicembre, non è mai scesa al di sotto di questa soglia, con il record assoluto del 5 gennaio di 5.315 nuovi casi. La variazione registrata nell'ultima settimana rispetto ai sette giorni precedenti è pare al più 120%. In sette giorni i pazienti ospedalizzati sono passati da 194 a 298, quelli in area non critica sono cresciuti del 51%, quelli in terapia intensiva del 25%. 19 i decessi nell'ultima settimana, nella precedente erano stati 11, il maggior numero di nuovi casi dell'ultima settimana è emerso nel Chietino 7.840, seguito dal Pescarese 5.858, dal Terramano 5.360 e dall'Aquilano 3.484. Ed ecco perché anche la decisione del governo con l'ordinanza, ripetiamo, firmata dal Ministro Speranza, di far passare Abruzzo, Toscana, Emilia Romagna e Valle d'Aosta da lunedì in zona gialla. Ed è un'emergenza sanitaria che sta costringendo ad un super lavoro i sanitari dell'ospedale civile di Pescara, dove il pronto soccorso è preso d'assalto dai pazienti e nei vari reparti. Non ci sono più posti, come ci racconta Paolo Renzetti. L'impennata di contagi da Covid-19 sta mettendo a dura prova anche il lavoro dei sanitari dell'ospedale civile di Pescara, dove l'arrivo di pazienti è sempre più imponente. La ASL pescarese lavora però per evitare qualsiasi tipo di disagio. Abbiamo pazienti Covid, abbiamo pazienti ordinari e stiamo cercando di accogliere in modo decoroso gli uni e gli altri e questo è chiaramente impegnativo. Una situazione che probabilmente, considerando che siamo a gennaio, è destinata a durare ancora qualche settimana? Beh, verosimilmente sì, anche se vediamo le proiezioni dei recovery Covid, ci dicono che ancora il picco non è stato raggiunto, quindi dobbiamo aspettarci una situazione che rimarrà difficile ancora per tutto il mese, credo. Quanto riguarda i recovery Covid, le condizioni dei pazienti, ci sono molti pazienti gravi? No, rispetto ai positivi diffusi nella popolazione no, abbiamo in questo momento 12 recovery in terapia intensiva e quindi però, visto il grandissimo numero di positivi, anche una piccola percentuale di ricoveri si traduce in un numero grande assoluto. La conseguenza dell'aumento di positivi si ripercuote poi anche al pronto soccorso del Santo Spirito, dove gli accessi sono arrivati a livelli di guardia. I vari reparti ospedalieri registrano poi la massima capienza. Questi giorni abbiamo visto un aumento imprevisto di afflusso, sia per quanto riguarda i pazienti Covid che per quanto riguarda i pazienti non Covid. Per quanto riguarda i pazienti Covid, chiaramente ci sono una crescita esponenziale dei picchi di positivi, corrisponde a un incremento anche dell'afflusso in pronto soccorso. Non siamo ai numeri dello stesso periodo dell'anno scorso, ma sicuramente la situazione tende ad aumentare e questo comporta un ulteriore impegno di personale da destinare a questi pazienti. L'azienda sta mettendo in campo una serie di attività progressive, per cui progressivamente si attivano nuovi servizi, nuovi spazi e nuovo personale per assistere a questi pazienti. Dall'altro lato, il rovescio della medaglia, chiaramente la situazione climatica del momento associata all'aumento della positività fa sì che ci sia un aumento al pronto soccorso anche di pazienti, soprattutto anziani, non Covid positivi, ma per altre patologie che risentono di una certa difficoltà ulteriore ad essere assistiti sul territorio, per cui ricorrono in maggior numero al pronto soccorso. Stiamo cercando anche per loro di dare una sistemazione. Ieri siamo andati in affanno, oggi il problema lo stiamo affrontando e credo che l'emergenza potrebbe rientrare anche nella serata di oggi. Come in altri centri della regione, anche a Montesilvano, al Via, da domani, gli screening per gli studenti, gli accertamenti sanitari si terranno al Paladin Martin. Alle nostre spalle c'è il Paladin Martin, dove l'8 e il 9 gennaio ci saranno gli screening per gli studenti di Montesilvano. Sindaco, sulla piattaforma in poche ore avete ricevuto 1200 prenotazioni, un record. Sì, questa mattina alle 10 abbiamo aperto, come comunicato nella giornata di ieri, una piattaforma alla quale gli studenti possono prenotarsi e nel giro di un'ora sono stati tantissimi i prenotati. Questo è un buon segno perché significa che nonostante il tampone non sia obbligatorio, tutti hanno compreso quanto in questo periodo, con i contagi che purtroppo ci sono, è importante uno screening per valutare le positività e quindi per evitare ulteriori contagi. Voi come amministrazione comunale ovviamente sperate in una adesione massiccia di ragazzi? Sicuramente, come dicevo è molto importante in qualche modo la prevenzione e quindi da questo punto di vista speriamo che se non tutti e 4.500 i ragazzi, gli studenti del territorio di Montesilvano, la stragrande maggioranza in qualche modo decida di tamponarsi. Se il buongiorno si vede dal mattino diciamo che questa intenzione negli animi dei genitori c'è e quindi siamo ben lieti in qualche modo di accogliere i ragazzi presso questa struttura e ci stiamo organizzando con il dirigente Marco Scorrano e con l'assessore della Repubblica di Stazione Palociglia, abbiamo messo in campo tutte le azioni volte ad assicurare al meglio questo servizio. Ovviamente come già fatto ieri ringrazio ancora una volta le associazioni di volontariato dell'ANC, della Protezione Civile e della Croce Rossa che hanno dato la loro adesione e daranno il loro contributo. Sindaco, il governo ha detto che il 10 gennaio riapriranno le scuole, lei da amministratore cosa pensa? È d'accordo oppure secondo lei bisognava aspettare ancora qualche giorno? Io sono d'accordo con la decisione del governo. Durante i precedenti lockdown, quando si erano presi le decisioni in merito alla chiusura delle scuole avevo sottolineato quanto per i ragazzi sia fondamentale una didattica non a distanza, una didattica in presenza per tanti motivi ed è giusto sicuramente portare avanti iniziative come questo screening o osservare tutte le prescrizioni del caso, ma al tempo stesso secondo me è una decisione giusta quella di dare la possibilità ai ragazzi di vivere una socializzazione scolastica, soprattutto una didattica che per troppo, oramai da anni vive delle difficoltà e quindi io sono assolutamente d'accordo con la riapertura. Per fronteggiare le emergenze epidemiologiche l'assessorato regionale alla salute attiverà un nuovo servizio. Dal 12 gennaio sarà possibile conoscere da remoto gli esiti dei tamponi effettuati. Attraverso la piattaforma MIA, portale di raccolta dei dati e informazioni personali, sarà garantita agli utenti la visualizzazione dei referti dei tamponi molecolari e dei test antigenici eseguiti nelle strutture del territorio abruzzese, ASL, laboratori privati e farmacie. Sarà sufficiente collegarsi con uno smartphone dal pc di casa al sito mia.regione.abruzzo.it e dall'area MIA SALUTE è possibile consultare il referto. È necessario lo SPID, l'identità digitale, del rispetto delle norme in materia di privacy. Il portale, spiega l'assessore Nicoletta Veri, consentirà di conoscere direttamente l'esito del test effettuato senza attendere che sia l'operatore della ASL o il proprio medico di fiducia a fornire l'informazione. Il sistema inoltre consentirà di visualizzare tutte le informazioni inserite nel tempo attraverso il sistema di tracciamento dei tamponi. L'ordinanza comunale emanata dal sindaco Gilberto Petrucci, sindaco di Penne, durante le vacanze e natalizie sulla chiusura anticipata dei locali sembra aver dato i suoi frutti. Infatti, ieri, prima giornata senza contagi a Penne, dunque sono ferme a 280 le persone positive al Covid-19. Con l'assessore Antonio Baldacchini abbiamo fatto il punto anche su vaccinazione e screening su popolazione scolastica. Stefano Recanati. Ieri, prima giornata senza nuovi positivi sul territorio comunale di Penne. Allora sembra aver dato i suoi frutti l'ordinanza emessa dal sindaco Gilberto Petrucci durante le festività natalizie per la chiusura anticipate delle attività commerciali. Sicuramente adesso non possiamo avere un risultato alla mano di questa ordinanza. Però così al lume di naso, sicuramente quando c'è una restrizione, il cittadino, alcuni cittadini, io mi auguro tutti, però alcuni cittadini volenterosi e di buon senso mettono in atto quello che l'amministrazione pubblica sta facendo per evitare che la situazione possa peggiorare. Per sconviggere il coronavirus c'è la necessità di stare lontani, di non permettere a questo virus di passare da un soggetto a un altro. L'unico metodo è la mascherina, il distanziamento e il rispetto delle norme geni. Intanto incontrata a Campetto, negli impianti sportivi prosegue la campagna vaccinale. Oggi saranno effettuate altre 600 inoculazioni tra prenotati e non prenotati, ma per loro sarà l'ultima giornata perché poi da lunedì si andrà avanti solo su prenotazione. Le vaccinazioni sulla prenotazione tramite il link che ha messo a disposizione la regione e quindi per svolgere ogni giornata che noi abbiamo, che sarebbe lunedì, il mercoledì e il venerdì, queste vaccinazioni di pomeriggio. È lunedì 10, si tornerà anche a scuola. Sappiamo tutti che il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglia, ha emanato questa ordinanza. Anche sul comune di Penne ci saranno nuovi screening per la popolazione scolastica, per un ritorno al sicuro sui banchi di scuola, anche se l'amministrazione comunale aveva auspicato un ritorno tra due settimane. E quindi noi ci siamo organizzati per fare i tamponi nella giornata dell'8, del 9, sabato e domenica. Cominceremo quindi alle ore 8 fino alle 13 e poi dalle 14 alle 19, 20. Adesso vediamo poi l'affluenza. Cambiamo argomento adesso a fronte di una crescita di alcuni settori, tra cui l'edilizia e il terziario. Il terziario registra una perdita di export nell'intero settore dell'automotive, che vi pare almeno 11%. Abbiamo ascoltato il neoeletto segretario organizzativo della CGL Abruzzo e Molise, Franco Spina. È rallentato il mercato del lavoro in Italia e di riflesso anche in Abruzzo, a risentirne in particolare il settore dell'automotive, che è un settore trainante per la provincia di Chieti. I dati elaborati da CGL sulla base di uno studio Istat e di uno studio del Polo di Innovazione Automotive di Santa Maria in Baro sono preoccupanti. Sì, diciamo che la situazione non è propriamente erosia, è una situazione che ci fa pensare che qui ci sia bisogno di mettere seriamente mano a un'idea di riorganizzazione dell'intero settore produttivo dell'automotive, che è comunque un settore trainante per questa provincia in maniera molto seria, perché chiaramente comporta anche in termini economici un buon livello di produttività, soprattutto per l'export. Quindi c'è questa necessità di avere una certezza rispetto a come e in che modo in futuro si andrà a ricollocare e a riorganizzare il settore. Meno 11% è il dato che riguarda l'export dell'automotive da luglio a settembre 2021, ma sono anche le piccole e medie imprese a risentire di questa situazione e tutto il comparto del lavoro in Abruzzo da quando è partita la pandemia? Assolutamente, la pandemia certamente ha ulteriormente ampliato quello che già era un effetto negativo, però ci sono settori che reggono o che riescono a crescere, ci sono settori come appunto quello dell'automotive che non reggono e che anzi arretrano. Nell'ultimo trimestre che è quello censito, vedremo i dati al 31 dicembre, ma chiaramente non sono dati al momento positivo. Cosa chiedete? Noi chiediamo semplicemente che si faccia una discussione vera, seria, ma soprattutto veloce, oltre ai tavoli regionali, oltre a quello che si sta facendo sui somministrati e quant'altro, c'è bisogno di cominciare ad avere una chiara idea anche a livello provinciale, c'è bisogno di avere un'idea complessiva da sottoporre a livello anche ministeriale, perché o siamo in grado di inserirci in questa discussione dell'innovazione tecnologica del PNRR anche attraverso soluzioni che mettono nelle condizioni le imprese di rimanere in questo territorio o altrimenti noi rischiamo di rimanere e di assistere passivamente a una trasformazione endemica del settore. Dopo la bocciatura definitiva del Tar dell'Aquila, della costruzione dei nuovi impianti e delle nuove piste da sci a Ovindoli, mentre la Regione prepara il ricorso, la stazione ornitologica abruzzese spiega le sue ragioni del no. Se Regione Abruzzo, per bocca dell'assessore al turismo Guido Liris e Comune di Ovindoli, si leccano le ferite ma pensano già al ricorso in Consiglio di Stato, esultano per il momento le associazioni ambientaliste che avevano proposto ricorso per i nuovi impianti sciistici nella nota località della provincia dell'Aquila. Un progetto che, secondo gli ambientalisti, avrebbe deturpato il paesaggio in una terra considerata il colosseo della biodiversità. Un progetto per il quale c'è stato lo stop del Tar Abruzzo. Come associazioni abbiamo fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ricorso che abbiamo vinto contro gli impianti di risalita perché? Perché verrebbero realizzati in un'area importantissima per la fauna e per la flora all'interno del Parco Regionale Silente Velino e verrebbero realizzati attraverso sbancamenti enormi, più di 10 ettari, che verrebbero completamente distrutti per stessa ammissione del proponente e quindi gli habitat e le specie tutelati a livello comunitario verrebbero sostituiti da piloni e piste da sci attraverso sbancamento del terreno. I giudici del Tribunale Amministrativo hanno detto che questo è incompatibile con le norme poste a tutela di queste specie, di questi abiti a tal livello internazionale. Poi ci sono stati problemi enormi censurati dal Tar, rilevati dal Tar per quanto riguarda la procedura amministrativa. Ora l'assessore Liris dice che la regione fa ricorso al Consiglio di Stato. Ovviamente noi anche in quella sede porteremo le nostre ragioni. Gli ambientalisti pongono anche il problema su come impiegare le risorse pubbliche e su quali modelli di turismo dirottarle. Sulle Alpi dicono che in considerazione dei cambiamenti climatici stanno cercando nuove forme di turismo che si stanno imponendo. L'uso di 10 milioni di Euro di fondi pubblici dovrebbe essere indirizzato verso altri tipi di investimenti, intanto per recuperare criticità ambientali dai depuratori alle discariche dell'altipiano delle Rocche che deturpano un ambiente importante come il Parco del Sirente e poi di rivitalizzare i centri storici e fare attività turistiche a basso impatto ambientale e garantendo un turismo durante tutto l'anno e non solo per l'uscita discesa. Sequestrata l'area è andata in fiamme nella palazzina che mercoledì è stata oggetto di un incendio che ha visto molte ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco per essere domato. Ora l'ipotesi di reato è incendio colposo. Selenia Secondi. Al via i sequestri nel palazzo di Chieti di Via dei Carecini che mercoledì pomeriggio è andato in fiamme a causa di una scintilla accesasi durante i lavori di isolamento delle canne fumarie sul tetto in legno. Dopo lunghe e difficoltose operazioni i vigili del fuoco erano riusciti a domare le fiamme nella palazzina che era in fase di ristrutturazione. Dopo essere stata sequestrata l'area distrutta stamattina è arrivata in procura una prima informativa. L'ipotesi di reato per ora è incendio colposo al momento a carico di ignoti ma già nei prossimi giorni le indagini coordinate dal sostituto procuratore Mari Caponziani condurranno alla notifica di avvisi di garanzia. Resta da stabilire con certezza quale sia stata la causa del rogo e se siano state rispettate le norme di sicurezza. Trasformare un'area in abbandono per farne un centro di ricerca e formazione altamente qualificato con un budget stimato in 36 milioni di euro. Il progetto che vede tra gli altri il comune di Pianella si basa su tre asset principali la ricerca, la formazione di alto livello in ambito di modalità mobilità sostenibile, di digitalizzazione della PA e di processi innovativi per l'industria 4.0. La fine del 2021 ha portato notizie importanti per il comune di Pianella. Infatti è stato ammesso alla fase 2 della selezione il progetto PNRR da 36 milioni di euro per un ecosistema dell'innovazione. Un lavoro complesso che ha visto l'amministrazione comunale interagire con il capofile, il Dipartimento di Architettura dell'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara e con partner privati altamente qualificati da tutta Italia, così da portare all'attenzione dell'Agenzia per la coesione un ambizioso quanto innovativo progetto. I lavori riguarderebbero interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi per l'innovazione. Il sito individuato dall'amministrazione guidata dal sindaco Sandro Marinelli è quella dell'area sita in un contesto urbano marginalizzato, quale quella dell'ex salumificio di Leonardo. Il sito abbandonato che presenta numerose criticità è un'opportunità infrastrutturale che ambisce all'ecosostenibilità totale tramite il recupero integrale dei materiali da demolizioni riciclabili all'autosufficienza energetica, all'armonizzazione dei materiali e forme con l'ambiente circostante. È chiaro che adesso la fase progettuale, diciamo quella di dettaglio, è fondamentale per definire nello specifico i parametri. Quello che l'idea di fondo è appunto un cambiamento epocale, è chiaro che avere in un territorio come il nostro un centro di questa natura ne comporterebbe una proiezione futura enorme perché l'indotto cambierebbe completamente a cominciare dall'afflusso di ricercatori, studenti, imprese che vengono a formare i loro manager di punta. Quindi è chiaro che si apre una prospettiva della quale Pianella potrà evidentemente beneficiare in maniera considerevole, ma l'intera regione Abruzzo e anche le regioni limitrofe potrebbero trovare in questa struttura un punto di riferimento per il futuro. Adesso apriamo la pagina dello sport con l'ufficialità del rinvio delle gare di campionato anche di domenica 16 febbraio la Lega Pro ha riprogrammato anche i recuperi dal 22 gennaio al 27 febbraio Pescara e Teramo avranno 9 partite in 36 giorni. Adesso c'è anche l'ufficialità, anche il turno di campionato di Serie C previsto per domenica 15 gennaio slitta a fine febbraio. Le parole di Ghirelli rilasciate ieri a Lanza che ha parlato di 250 calciatori positivi al Covid su 1700 nei club di Lega Pro non lasciavano molto spazio ad interpretazioni diverse rispetto alla decisione assunta. Il presidente della Lega di terza serie, sentiti i membri del consiglio direttivo, il parere del consulente medico scientifico della Lega Pro Francesco Braconaro, considerate il permanere delle condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall'emergenza epidemiologica, ha disposto il posticipo della terza giornata di ritorno che sarà recuperata mercoledì 23 febbraio tra la nona e la decima in un calendario compresso che aveva già visto la seconda di ritorno in programma domenica 9 posticipata a mercoledì 2 febbraio tra la quinta la sesta giornata. Domenica 23, quando la Lega Pro, esattamente come la Serie D, spera di ricominciare dopo l'ondata di contagi post natalizi, si ripartirà con la quarta giornata, esattamente quella prevista per quella data. Le due abruzzesi tuttavia saranno impegnate sabato 22 alle 14.30. Il Pescara all'Adriatico Cornacchia contro l'Aquila Montevarchi, il Teramo in trasferta al Benelli contro la Vispesaro. La settimana successiva, quella del weekend 29, 30, 31 gennaio, stesso orario, 14.30 e doppia trasferta. Pescara al Rocchi di Viterbo, Teramo invece al Galli di Imola. Tre giorni di pausa e poi il primo recupero, quello che sarebbe stato in programma questo fine settimana. Pescara tra le mura amiche contro la Cararese, Teramo impegnato a Siena al Franchi nel mercoledì che apre un mese di febbraio fittissimo. Partite queste che si giocheranno in notturna alle ore 21. La domenica dopo si riparte con la sesta, Pescara-Gubbio e Teramo-Lucchese, entrambe programmate per le 14.30. Si passa alla settima di ritorno, sette giorni dopo, per il Teramo impegnato a Viterbo, domenica 13 febbraio alle 17.30, posticipo invece per il Pescara lunedì sera alle 21 nella Tana dell'attuale capolista reggiana in coabitazione col Modena. L'ottava era già programmata come turno infrasettimanale, mercoledì 16 febbraio Teramo al Bonolis con la Pistoiese, notturna alle 21 e Pescara che vista la distanza troppo ravvicinata col lunedì di campionato, giovedì 17 allo stesso orario, ore 21, se la vedrà in casa con la Virtus Entella. Domenica 20 febbraio due gare alle 17.30, il Pescara va al Recchioni di Fermo contro i gialloblu marchigiani, il Teramo in Umbria a Gubbio per la nona di campionato. Altri tre giorni e si recupera la terza, quella che sarebbe stata in programma domenica 15, tutte in notturna con Vispesaro-Pescara e Teramo-Modena. Chiusura di un mese incredibile dopo altri quattro giorni con la decima, stavolta sarà il Pescara ad affrontare il Modena ma al Braglia, mentre il Teramo torna al Bonolis contro il Grosseto. Rispetto della salute e della regolarità del campionato, stesse condizioni per tutti i club, ha tweetato il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Praticamente dice abbiamo fatto una bolla di circa 15 giorni per diminuire i livelli di contagio, impediti di spostamenti e assembramenti. La lunghissima pausa sarà un modo per smaltire le positività per molti e per gli altri di ricaricare le batterie in vista di un mese e mezzo davvero senza respiro. Con un mercato piuttosto bloccato per il Pescara risulta difficile fare cessione e sfoltiere l'organico. Galano e Marilungo ad esempio sono ancora in organico, intanto il Palermo pensa a Val di Fiori. In ottica futura da valutare la posizione di Elisalde, nella prossima estate la società potrebbe monetizzare con una cessione. Intanto, come abbiamo visto, è ufficiale l'ulteriore slittamento della Serie C. Andrea Costantini. Si allungano i tempi per il rientro in campo in Serie C. Dopo un'intervista rilasciata ieri sui contagi in terza serie, nel primo pomeriggio di oggi il presidente della Lega Pro Ghirelli ha disposto il posticipo di un'altra settimana della ripresa del campionato, salvo altri provvedimenti, la C tornerà sabato 22 gennaio col Pescara che ospiterà l'Aquila Montevarchi all'Adriatico Cornacchia. La terza giornata di ritorno sarà recuperata mercoledì 23 febbraio. La seconda di ritorno era stata già riprogrammata per il 2 di febbraio. Tanto tempo dunque per il Pescara per smaltire le tre positività dichiarate, nell'auspicio che non si presentino ulteriori casi in questo periodo. Se Auteri può oleare meglio i suoi meccanismi, i fari restano puntati sul mercato. Il primo innesto è sostanzialmente fatto anche se delle lungaggini burocratiche stanno posticipando la firma di Carlo Delisio che arriva in presido dal Bari. Solo una volta espletate il centrocampista potrà iniziare ad allenarsi in gruppo. Ma come già detto le priorità sono le uscite dove le cose non sono così semplici. Dato in partenza con pronto ritorno al Benevento, Siricchi Sanogo si è regolarmente allenato in biancazzurro a inizio settimana. Lo stesso Guido Marilungo non ha ancora trovato sistemazione. Si è decisamente raffreddato l'interesse del Teramo che pensa ha profili più giovani nel ruolo. Sull'attaccante Marchigiano aveva fatto un sondaggio anche il Mantua ma anche in questo caso c'è una decisa virata su altri profili. E allora per quanto in uscita anche Marilungo resta inorganico così come Cristian Galano e Giuseppe Rizzo. Sull'attaccante sembra aver messo gli occhi anche il Foggia, squadra della sua città dove ha militato con scarsa fortuna nella stagione 18-19. Restano in piedi anche le ipotesi Cosenza, Ascoli e Ternana ma nessuna di queste al momento è intenzionata ad affondare. Oltre Rizzo il Pescara cederebbe volentieri anche Mirko Valdifiori per questioni tecniche ed economiche. Sul giocatore sono finiti gli occhi del Palermo. Il neo allenatore Silvio Baldini è un estimatore del centrocampista e lo ha allenato in passato all'Empoli. Potrebbe farne il leader della squadra Rosa Nero anche se una reale proposta al calciatore e al Pescara non è ancora giunta. Palermo che guarda con interesse anche Mardo Cinsita, l'esterno Mancino che ha disatteso più volte la fiducia di Auteri. Può partire ma difficile chi accetti un'altra Serie C. In un mercato dove gli scambi spesso si rivelano utili per muovere calciatori, Pescara e Ivole se stanno impostando quello che può portare in Romagna Milos Bocic, adatto al 4-3 del tecnico Fontana, e riportare in rival adriatico Nicolas Belloni. In ottica futura c'è poi da verificare eventuali sviluppi per il difensore Edgar Elisalde, andato in prestito al Penarol, con cui da titolare si è laureato campione d'Uruguay. Il giocatore potrebbe costituire una importante entrata economica in caso di cessione a titolo definitivo. Una svolta si attende entro la prossima estate, poiché una volta scaduto il prestito, il giocatore entrerà nel suo ultimo anno di contratto in bianca-azzurro. E dopo la Serie C, la Serie D, anche il calcio direttantistico abruzzese si ferma e alza bandiera bianca di fronte al Covid. Considerato l'evolversi repentino della situazione pandemica in Abruzzo, che sta iniziando a coinvolgere in modo importante il calcio regionale, si legge in una nota della FIGC Abruzzo, visto che in eccellenza maschile è stato raggiunto il 50% delle società che hanno chiesto il rinvio delle partite per Covid, avendo un numero di positivi certificati superiore a 5, il comitato regionale LND ha disposto la sospensione temporale di tutti i campionati, anche di quelli apicali, eccellenza maschile e femminile, C1 e C femminile di calcio a 5, con rinvio a data da destinarsi delle gare di domenica prossima, 9 gennaio di tutti i recuperi. Direttivo convocato d'urgenza domani e sarà stilato un calendario di riunioni con tutte le società. Protagonista assoluto il Covid anche nel volley, in forse la trasferta a Cantuna e l'anticipo di domani alle 18 per la Sia Cortona che mercoledì di 12 dovrebbe anche recuperare la gara di Castellana Grotte, in A3 l'Abba Pineto non giocherà domenica in casa contro il Belluno ma potrebbe tornare in campo mercoledì 12 per la gara da recuperare a Grotta Zolina. In A2 femminile stoppa anche per l'Altino che avrebbe ospitato il Busto Arsizio, in B maschile niente trasferta a Pesaro per l'Alba Adriatica mentre potrebbe giocare domani a Genzano il Paglieta. In B1 femminile è rinviato lo scontro salvezza tra Teatina Chieti e Iesi, in B2 non si disputerà il match al vertice tra Teramo e Fasano in programma domenica al Pala Acquaviva. Salta anche la trasferta della D'Annunziana a Bisceglie in campo il solo Gada Pescara 3 a Corridonia domani alle 21. A riposo per turno il Ceteas Montesilvano. E con la sua azienda Dedo Engineering Alfredo De Dominicis è costruttore ufficiale in Italia della N5. Per lo sviluppo del modello da rally il noto pilota Teramano si avvale della collaborazione di importanti aziende della provincia. Si chiama N5 ed è una macchina da rally importata dalla Spagna dal pilota e imprenditore Teramano Alfredo De Dominicis che grazie alla sua azienda Dedo Engineering ne è diventato costruttore ufficiale in Italia. Si tratta di un prodotto assemblato con telaio e meccanica comune su scocche di diversi marchi automobilistici. Ottenuta la omologazione da AC Sport, De Dominicis ha proseguito il lavoro puntando, oltre che alla parte commerciale e sportiva, allo sviluppo tecnico della N5. Un aspetto che il noto pilota Teramano sta implementando attraverso delle partnership sia con l'azienda emiliana Tedac Racing di Reggio Emilia per i prototipi da competizione, ma soprattutto con alcune realtà abruzzesi. Una è la PF Auto di Teramo, concessionaria a Peugeot, con cui, fa presente De Dominicis, è partito il primo modello derivato dalla nuova 208. Gli interventi sono molti e le vetture vengono stravolte a livello di telaio, meccanica ed estetica. Entra così in gioco, prosegue De Dominicis, la International Pure Components di Teramo, azienda leader in Europa nella fabbricazione di poliuretano e dei suoi derivati. Altre aziende partner sono la Stelte di Teramo di Alberto Taraschi, nipote del pilota Berardo, protagonista nella progettazione del collettore di scarico per la 208 N5, quindi la OSLV Italia di Roseto, che fornirà prodotti di alta qualità per la pulizia del parabrezza nelle gravose condizioni delle gare automobilistiche. Sono particolarmente orgoglioso, conclude De Dominicis, di riuscire a coinvolgere nel progetto 208 N5 aziende della mia terra e della mia provincia in particolare, con tecnici e colleghi ingegneri di importanti imprese apprezzate in tutta Europa. Prossimo step, dotare l'auto di un motore elettrico nel segno della compatibilità ambientale. E questo era il nostro ultimo servizio, i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Il TG6 torna questa sera alle ore 23, grazie per la cortese attenzione e buona serata. Grazie per la visione!